San Michele Arcangelo si festeggia all'8 maggio perché in questa data apparve più volte sul Gargano e segnò da allora nell'anno 480 l'arrivo del suo culto in Europa attraverso i Longobardi. San Michele Arcangelo Castiglion Fiorentino lo scelse in tempi molto lontani. La sua figura appare negli statuti comunali nel 1535. Negli ultimi anni, oltre alle sante celebrazioni nella Chiesa della Collegiata, nelle altre parrocchie e festeggiamenti popolari organizzati nelle mura del paese da parte del rione di Porta Romana, l'amministrazione comunale ha voluto dare un ulteriore rilievo alla sua figura dedicandogli la sala consigliare e contribuendo a riproporre la solenne processione per le strade del paese con la Croce Santa. Il programma prevede alle 17.45 il raduno in piazza del municipio delle autorità civili, militari e religiose. Alle 18 all'inizio della processione per le strade del centro storico, prima della solenne celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa della Collegiata, è prevista la titolazione di Porta Nuova, si tratta della porta che da via Trento conduce in piazza della Collegiata, soprannominata Porta Ciribilla. Dalle 20 in poi le iniziative sono a cura del rione di Porta Romana, che prevedono alle 20.30 il corteo storico dei tre rioni, con esibizione in piazza del collegio, alle 21 il concerto dei Camalocco e a seguire lo spettacolo pirotecnico.